buongiorno ragazzi siamo io e francesco buongiorno buongiorno oggi andiamo a fare il sentiero di orgiano e faremo un po di cleaning tireremo su un po di immondizie quindi siamo dotati dei guantini da giardinaggio e un paio di sacchetti dai grazie Grazie a tutti Prima pausa, ragazzi, abbiamo raccolto abbastanza immondizie, per cui anche delle cose strane, un fiore di plastica, un telo gigante e diverse cartine di caramelle e qualche cartuccia. La giornata sta migliorando, speriamo di arrivare sopra e che ci sia un panorama decente. La giornata sta migliorando. La giornata sta migliorando, speriamo di arrivare sopra e che ci sia un panorama decente. Allora, siamo arrivati in corrispondenza della bandierina che segna il vento per i ragazzi che vanno con il parapendio e da qui il panorama è davvero notevole. La giornata sta migliorando, speriamo di arrivare sopra e che ci sia un panorama decente. Questa impresa, il nostro bottino è abbastanza considerevole, ma abbiamo trovato decisamente i posti più sporchi, per cui complimenti agli orgianesi. La giornata sta migliorando, speriamo di arrivare sopra e che ci sia un panorama decente. La giornata sta migliorando, speriamo di arrivare sopra e che ci sia un panorama decente. Grazie.